Ciao a tutti da SariDore e bentornati su Subnautica! Oggi in compagnia del nostro amico, ma che dico amico, luminare il nostro signor Tottano, andremo avanti e inizieremo a costruirci una base degna di questo nome. Purtroppo mi sono reso conto di aver cannato in toto l'audio e quindi la prima parte sarà un pochettino meh, ecco. Ma non aggiungo altro, buona visione. Signor Tottano, ma buongiornissimo, ma come va, ma come va? Sì, è appena spuntato il giorno su Subnautica. Eeeh, che bello! Fantastico! E lì c'è sempre la nostra navetta. Allora, signor Tottano, iniziamo a fare cose quasi quasi, già che ci siamo? Allora, siamo di nuovo sott'acqua? A quanto pare sì. Siamo di nuovo sott'acqua perché dobbiamo cercare... come cacchio si chiama? Quella grotta che avevamo trovato un bel po' di tempo fa, che era subito qui da qualche parte, credo. Perché dobbiamo cercarla? Perché al suo interno c'è un componente che non avevo visto. L'ho visto mentre stavo craftando risorse. Sarà qui? Ok, questa è una zona che me la segnala come radioattiva. Quindi dobbiamo fare attenzione. Allora, io subito ero andato là da qualche parte perché ci sono dei ortami, delle cose. Non avevo visto che qua c'è questa. Ma che pollo! Ok, siamo sui 300 metri di profondità. E oltretutto non potevo craftare neanche nient'altro per la base perché mi mancano delle cose. Ok, come si può vedere qua, in parte per la base io ho un bel po' di cose. Però, mi manca una sala, cioè le sale circolari. Io potevo craftare solo la sala scanner. Il vano d'attacco, mi mancano dei componenti e me ne manca di roba. Ok, proviamo ad uscire e vediamo. Abbiamo delle cose già qua. Frammento caricatore, cella energetica. Io questo lo voglio subito tantissimo. Ok, ne dobbiamo trovare ancora uno. Cos'è sta roba? Vanno d'attacco. Guarda, roba che non c'è! E abbiamo il vano d'attacco adesso. Ok, abbiamo un altro blueprint. Sala multifunzione. Un'altra cosa utilissima che mi mancava. Ok, abbiamo il nuovo progetto. Fioriero da parete. E vabbè, prendiamo anche questa, cioè che c'è. Ok, abbiamo il frammento del reattore nucleare. Guarda qua roba che non c'è qua! Ma pensa a te! Ok, adesso inizierà a fare casino perché si stanno baggando tutte le cose. Anche qua è una pianta nuova? Sì, ma non la possiamo scannerizzare. Boh, vabbè. Ok, osservatorio! Guarda quanta roba che abbiamo sbloccato! Guarda qua cosa abbiamo qua! Un PDA abbandonato! Macchina di filtraggio dell'acqua! Wow! Stiamo trovando tantissime cose! Frammento del caricatore è l'altro frammento! Dovremmo arrivare... Dovremmo avere tutti i blueprint adesso! A quanto pare sì! Abbiamo il caricatore! Questo è utilissimo, eh! Questo è utilissimo! Frammento del reattore! Energia nuclea! E la madonna! Quanta roba! Eh, ma dobbiamo trovare ancora uno! Frammento del vando a tracco! Ce l'avevamo già? Sì, ce l'avevamo già! Vabbè, è titanio, è titanio! Frammento del fucile a stasi! Ma ce l'abbiamo già! Credo! No! L'abbiamo sbloccato! Ah no! Dobbiamo quasi sbloccarlo! Vabbè! Abbiamo il faro! Abbiamo trovato anche il faro! Guarda roba! Ora vorrei riuscire a trovare un posto per entrare io, eh! Ok, siamo riusciti ad entrare! Sì! Ma c'è da stare attenti! Perché qua qualsiasi cosa ti vuole uccidere! Letto matrimoniale... Eh, vabbè! Letto matrimoniale è cosa che si andrà soli! Vabbè! Noi prendiamolo! Progetto in più! Scatola dati! Capienza bombola ultra elevata! Questa la voglio immediatamente! Ok, non mi sono reso conto che la registrazione era a volumi incredibili! Perfetto! Così che si fa, eh! Si vede la professionalità quando fai i video! Oh, che palle! Cos'è? Cos'è? Cosa cazzo sei te? Allora, cos'è? Non lo so! Ma ci ha attaccato tantissimo! Ci ha fatto malissimo! Porca Eva! Ma ci ha distrutto! Ah, ma era un lombrichino! Ma va, te la pia! Ok, e direi che qua per ora abbiamo raccolto tutto! Credo! Quanto meno! Ora dobbiamo cercare di uscire, però! Ok, signor Totano, andiamo là fuori, andiamo a cercare cose che sua sorella Tatiana non vedrà l'ora di fare nuove scoperte! Chi è Tatiana? Chi è Tatiana? Tatiana è sua sorella, è la sorella del signor Totano! È talmente grassa, ma talmente grassa che fai prima a saltarla che a girarla intorno! Ok, signor Totano, cosa non dice di iniziare a costruire qualche sala un po' più decente? Guarda roba che non abbiamo trovato! Guarda cosa! Tutta cosa che non potevo fare prima! Abbiamo una stanza multifunzione, che non so che roba sia! Sala scanner ce l'abbiamo già! Vanno d'attracco! Osservatorio! Wow! Sala grande! Plasta acciaio ci serve! Non so che roba sia! Cupola in vetro! Cupola in vetro! Un portale! Vabbè, questa è tutta roba che avevamo già! Possiamo iniziare a fare cose? Allora, in primis, vorrei vedere la... Dove sta? Eh, perché gioco non me la fai fare? Ah, adesso ho deciso che... Sì, la possiamo fare! Ok! E la possia... Non la possiamo più costruire! Perché mi mancano le risorse! Ok, possiamo costruirla adesso direi di sì! E l'abbiamo costruita! Ok, sì, 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 tutta cose, tutta cose! Tanto non ho letto niente di quello che mi ha detto, quindi... Allora, andiamo a vederla! Ma che spettacolo! Ma che bella! Ok, adesso volevo spostarmi in quella direzione lì! Mamma mia! Mi sbaglio sempre! Ok, volevo spostarmi in quella direzione là! E ci potremmo mettere una... Mi serve il plastacciaio! Che non so come si crafti! Ora, volevo metterci un portello per entrare anche di qua! Ma lo metteremo tipo di qui, magari! E ok, facciamo il nostro portello! Così possiamo metterlo anche di qua, più veloce! Allora, qua, dato che tutte le risorse le abbiamo lì... Volevo mettere il costruttore! Dove cazzo sta? Ok, lo mettiamo lì! E figurati un po' se non mi sbaglio di tasto! Ok, costruiamolo! Perfetto! Ok, volevo fare anche il caricatore di cella energetica! Mi serve la cavetteria avanzata, il rubino e il titanio! Tutte cose che abbiamo! E ok, abbiamo creato la nostra cavetteria avanzata! Perfetto! Ora, però, cosa che mi serve? Mi serve uno di titanio! Ma pensate, uno me ne serviva! Uno! Ok, e possiamo fare il nostro caricatore per le celle! Wow! Così possiamo ricaricarle! Lo mettiamo qua, in parte? O lo mettiamo là vicino a quell'altro? Lo mettiamo là vicino a quell'altro? Lo mettiamo qui! Ok, costruiamo tutto per fare... Guarda che spettacolo! Ok, ce l'abbiamo fatta! Se io adesso lo apro... Ah, vedi... Ah, me ne può ricaricare solo due, però! Va bene, va bene, non problema! Ok, quindi se io ci metto questa... E dov'è l'altra? Boh, lui lentamente me le caricherà, a quanto pare, sì! Ok, qui ce lo potremmo mettere il vano da tracco, oppure sarà troppo poco profondo, perché non so da che parte si entri, eh! Ah, da qui! Eh sì, in teoria sì! Ok, dobbiamo craftare due lingotti di titanio, quindi 20 di titanio se ne vanno così a fangolo per gli affari loro! Qua da qualche parte ci aveva anche dell'olio, come cacchio si chiama! Perfetto, siamo senza corrente! Perfetto! Più di così non si poteva, eh! Pionbo! Eccolo qua, vabbè! Ovviamente siamo senza corrente perché è notte! Vabbè, pazienza, eh! Non è la morte di nessuno! Però, voglio dire... Ok, intanto costruiamoci il nostro vano da tracco! Eh, l'abbiamo fatto, voglio dire! Non è che ci serva chissà cosa, eh! Poi volendo lo possiamo demolire! Eh, mi fai vedere un po' com'è, eh! Ok, non abbiamo di ossigeno! Perfetto, ottimo! Mi domando come funziona! O se è semplice metto in vano? Così! Abbiamo di nuovo corrente! Allora, fammi vedere com'è sto coso, come funziona, non lo so! No, fermete! Boh, eccoli, spaccati tu! Ah, così, in automatico! Ok! Ottimo! Ah, lui va in automatico così, poi... Ah, perfetto, perfetto! Allora, cosa è importantissima? Facciamoci la bombola a capienza elevata! Mi serve del litio, ma ne abbiamo! Ok, allora, la bombola non me la fa craftare, non so per quale assurda ragione, eh! Non è la più palida idea! Però possiamo fare la muta, quella rinforzata! Mi servono le fibre sintetiche che si fanno col benzene e la fibra rete! Benzene abbiamo tonnellate, fibra rete è una micchiata! Ok, possiamo fare le nostre fibre sintetiche! Perfetto! Poi, cos'è che mi serviva? Due di diamante e un titanio, ok! E ok, la nostra muta rinforzata la possiamo craftare! Ok! Dovrebbe darti maggiore sicurezza sicuramente, eh! Ok, perfetto! Devo occupaggiarla? A quanto pare sì! Ah, però una è antirradiazioni, l'altra è rinforzata! Ehm, hai capito! Allora, vediamo qua, teoricamente potremmo fare la muta prone, che non so che roba sia, eh! Ma va bene! Ehm, ci serve un botto di roba! Abbiamo trovato un form... Ah, va bene, ma è tutta roba che abbiamo già! Sembrava strano, effettivamente! Chi è che mi ha morso? Chi è che mi ha tirato una dentata sul figlio di tua madre? Ok, possiamo fare già l'ingotto di plastacciaio, facciamolo! Ok, eccolo qua! Ehm, domanda, ce ne servirà solo uno, chi si ricorda? Ah, ma quindi, mentre è traccato qua, si ricarica! Che cazzo di salto abbiamo fatto? Non lo so! Questa è una figata, eh! Mentre siamo lì, lui si ricarica! Ok, andiamo a recattare di nuovi materiali, ce ne servono per i beati! È lì, eh! Eh, guardalo! È lì che mi punta! Il maledetto! Tanto lo so che arrivi! Pari, dai! Eccolo! È brutto porco! Maledetto dinamitardo di merda! Sapevo io, eh! Che mi pinzava! Ok, creiamo il secondo lingotto di plastacciaio! Ci ha voluto l'universo e mezzo per cogliere le risorse! Ma ce l'abbiamo fatta! Ok, poi cosa mi serviva, boh! Allora, mi servirebbe dell'aerogel, ma non lo posso craftare! Cazzolina! Non so come si faccia! Allora, per ora distribuiamo un po' tutto qua! Allora, mettiamo un poster qua, già che ci siamo! Ok, mettiamo di nuovo quello dal promo? Eh, vabbè, mettiamo di nuovo quello dal promo! Intanto liberiamo l'inventario! Oh, il poster del mare! Ah, è uguale a quello! Poi qua ci mettiamo questo, quello del meteo! Che calma! Perfetto! Infatti, una volta che la attacchiamo qua, la base si ricarica completamente! Ottimo! Allora, ho scoperto che le stanze queste qua le possiamo mettere anche una sopra l'altra! Non so per quale ragione, eh! Una ragione ci sarà! Ok, ho tolto l'ingresso che era di qua! E ci ho aggiunto una sala multifunzione! Perché? Perché io vorrei costruire cose io! Ad esempio il bioreattore! Che possiamo mettere lì? Mi serve titanio, caveteria, lubrificante, tutte cose che abbiamo, barra, le recuperiamo immediatamente! Ok, costruiamo il nostro bioreattore! Vorremmo un po' vedere cosa serve! Cosa... perché? Ok! Inattivo! Allora, me lo dà come inattivo! Ma perché? Dovremmo mettersi qualcosa? Ok, allora, dopo 100.000 tentativi, Ho scoperto che basta metterci i pesci! Sì, ci ho... Vabbè, lasciamo perdere! E ci fornisce 500 di energia! Infatti... Ah, ok! Perfetto! Lui pian piano si succhiera tutto, immagino! Sì, sì! Vabbè, non è male, eh! Teniamolo lì, può sempre servire! Ok, io mi domando queste due cose non funzionanti cosa ci servono a fare! Ma va bene, va bene! Teniamole lì, qualcosa serviranno! Ok, cosa possiamo fare ancora? Ok, proviamo a mettere ancora un pannello solare e vediamo... Si aggancia, innanzitutto! Sì, si aggancia! Io mi domando se c'è un limite, eh! Di cose! Lo scopriremo, lo scopriremo! Ok, adesso come si può vedere abbiamo una riserva energetica di 7,25! Voglio dire... Qua quanto consumi in te, invece? Ma relativamente niente, direi! Poco e niente! E ok, per ora fermiamoci qui! Siamo riusciti a craftarci una base! Niente male! Piano piano stiamo andando avanti! Ci sono ancora delle cose che non sono ancora riuscite a capire bene come funzionano! Ma lo scopriremo sicuramente nel tempo! Intanto che la nostra base prenderà forma successivamente andremo avanti! Abbiamo ancora tantissime cose da scoprire! Comunque, se il video vi è piaciuto mettete like, condividete, iscrivetevi al canale fate poco caso che volete tanto ormai lo sapete e noi se vorrete ci vediamo in un prossimo episodio e ciao!